Ok, vi invitiamo uno dopo l'altro per fare i premi. The Malvern Swordsman, England. Ringraziamento. Grazie. Folklor gruppo Savieze, Switzerland. Grazie. Mi voglio prendere una foto. Mi voglio dire qualcosa? No. Tu puoi dire qualcosa? Oh, mio italiano è molto bene. Non preoccupare. Arriviamo nella Svizzera, Valesia e siamo veramente molto felici di essere con voi qui a questo festival. Grazie per tutto. Grazie molto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti. 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 California. Sono felice a tutti. È stato un piacere partecipare a questo festival. Grazie a tutti. 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 E adesso, che facciamo? la giuria svi ste pobednici la giuria ha dato questo premio al gruppo serbo svi che vive in Svideze esistono 50 anni in Svideze e vi spero che tutti vengono a casa tranquillamente e buon viaggio complimenti Svideze 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 Svideze